Vecchi e nuovi problemi al Parco Pallotta di Ostia. L'area verde, nonostante le sue grandi potenzialità, è completamente abbandonata e a farne le spese oltre al parco stesso sono i tantissimi frequentatori costretti a fare conti con un'area poco sicura, soprattutto al calare del sole. Fortunatamente in questi giorni è tornata in funzione l'illuminazione pubblica. L'assenza di luce infatti consentiva ai malintenzionati di fare i propri comodi con più facilità, in particolar modo i teppisti che stanno devastando la zona. Il risultato di un abbandono istituzionale è sotto l'occhio di tutti. È diventata meta per azioni vandaliche, è diventata una zona purtroppo dove i malintenzionati possono commettere ogni genere di crimine ed è quello che noi residenti di questa fetta, ampia fetta di Ostia Ponente, non vogliamo. A questo parco ci sarebbe da fare un po' di più. Abbiamo chiesto di pulire. Poi hanno smontato i giochi, hanno detto che sono arrivati al municipio e le panchine e non le hanno ancora rimesse. Noi abbiamo provato, abbiamo messo dei cartelli, avevamo reso un po' più carino, ma poi abbiamo visto che la sera vengono, distruggono tutto. Era venuta pure un'associazione, era venuta a portare delle piante per abbellire e dopo due giorni sono sparite tutte. Hanno visto un ragazzo che si portava tutte via, ma saranno state una cinquantina di piante. La sicurezza non c'è, non c'è la sicurezza qua. La polizia, i carabinieri o cose altre non passano. Il presidente del comitato di quartiere e associazioni cittadini per il Parco Pallotta rivolge un appello direttamente all'amministrazione del decimo municipio affinché l'area venga riqualificata. Noi vorremmo confrontarci col presidente del municipio, con gli assessori competenti per cercare di capire che futuro ha il Parco Pallotta. Un futuro che deve passare dalla manutenzione ordinaria di questo spazio, ma anche un futuro che deve passare dalla programmazione di eventi culturali nello stesso e che possa anche riavvicinare le persone a vivere questo parco, peraltro uno tra i parchi più grandi del decimo municipio.